Buongiorno a tutti amici e forza Juventus. Oggi avevo programmato un altro tipo di contenuto, volevo parlare di alcune mosse di mercato di giuntoli che non mi convincevano al 100%, ma questo contenuto ve lo porterò poi nelle prossime ore, perché nel frattempo in mezzo è arrivata una bella bombetta, secondo me, che diventa argomento di discussione. Non si parla direttamente di campo, ma lo diventa indirettamente, però un indirettamente che sposta e non poco quelle che poi sono le valutazioni inerente a una squadra a fine dell'anno. Perché hanno parlato i tifosi della Juventus, non tifosi come me o non tifosi come tanti di voi, bensì i Viking che hanno pubblicato sulla loro pagina Instagram un comunicato duro, ve lo riassumo ma poi ve lo vado anche a leggere, per loro il supporto alla Juve nelle partite casalinghe finisce qui. Non saranno più presenti nelle ultime gare stagionali all'Allianz Stadium. E ora andiamo a leggere le motivazioni. Per noi finisce qui. Per noi il campionato in casa finisce qui. Abbiamo messo tutto il nostro impegno, passione, tempo per far tornare alla Curva Sud il dodicesimo uomo in campo, per dimostrare, se ce ne fosse ancora bisogno, che lo Stadium senza di noi, senza il nostro costante e continuo tifo, è solo uno stadio freddo, silenzioso e troppo spesso incline a fischiare e contestare troppo facilmente. In questa stagione abbiamo lottato per ottenere quei basilari strumenti per organizzare il tifo e sappiate che tante proposte e idee che sono la norma in quasi tutti gli stadi delle maggiori tifoserie italiane ed estere ci sono stati bocciati. Abbiamo sostenuto la squadra incessantemente sia quando lottavamo per i primi posti, sia quando è iniziato un continuo e costante calo di prestazione e orgoglio sul campo. Abbiamo sostenuto tutti, nonostante sappiamo bene gli usi e abusi di alcuni dei nostri calciatori, che fuori dal campo alle volte tendono a comportarsi poco da tre dei professionisti. Anche se vi allontanate da Torino le cose si vengono sempre a sapere. Ma le sentenze e quanto si è detto e scritto con situazioni quasi chirurgiche studiate a tavolino al fine di colpirci nuovamente hanno superato il limite. Il limite degli abusi e soprusi nei nostri confronti è colmo, dopo accuse mirate e ben costruite per far apparire la realtà a proprio piacimento e non come realmente stavano i fatti. Certi e sicuri che la giustizia, scritto tra virgolette, avrebbe fatto il suo dovere. Amaramente apprendiamo che nonostante le nostre difese e inequivocabili prove di scolpa presentate, queste non siano neanche state prese in considerazione. Riponiamo nella cassazione ancora un barrome di speranza e dimostrazione che la giustizia, tra virgolette, sia uguale per tutti. Abbiamo subito collusioni difficili da digerire e far finta di non vedere o sapere. Ancora speranzosi di giustizia e verità abbiamo sperato e creduto in giornalisti, tra virgolette, che si animassero e che facessero i loro articoli dopo approfondimenti. Inchieste, come dovrebbero essere, invece di realizzare che il loro mestiere che sognavano da bambini, in realtà non è altro che un mero ebieco passaveline dove si pubblica quello che si vuole far scrivere e trasparire da altri, invece di indagare e cercare verità. Non ci meritate, ma noi che siamo brutti e cattivi manteneremo quanto promesso sostenendo la squadra allontano da Torino. Sicuri che la bolge tifo incessante avuto in questi mesi che ha riportato lo stadium sempre pieno al botteghino e caloroso con gente in festa e pieno di colore ardore sarà anche come il nostro silenzio. Lasciamo questa ultima parte di campionato importantissima per raggiungere gli ultimi obiettivi che ci sono rimasti a voi, pubblico che se cantiamo ci fischiate, a voi che se la squadra non segna dopo 20 minuti fischiate, a voi che se non vinciamo e dobbiamo spingere la squadra fino alla vittoria, fino alla fine, è un fino alla fine solo per noi, perché voi avete paura del traffico e uscite. Insomma, ci sono tanti concetti ed è ovvio che vada fatta anche una sorta di riepilogo di quello che è successo nei mesi precedenti. La Juventus qualche anno fa denuncia, alcuni tifosi, denuncia una parte del tifo organizzato e proprio il 30 aprile del 2024 abbiamo avuto una sorta di elenco di persone che poi hanno subito dei procedimenti. Ansa infatti pubblica questo articolo. Sono state aumentate dalla Corte di Appello di Torino le condanne per 5 esponenti del tifoseria organizzata dalla Juventus processati nell'inchiesta Last Banner. I giudici subalpini hanno ricalcolato la pena complessiva per Dino Mocciola a 8 anni di carcere a fronte dei 4 anni e 10 mesi inflitti in primo grado. Per Salvatore Cava, Sergio Genere, Umberto Troia e Giuseppe Franzo le condanne sono rispettivamente a 4 anni e 7 mesi, 4 anni e 6 mesi, 4 anni e 3 mesi, 3 anni e 11 mesi di reclusione. Il processo riguardava quello che secondo l'accusa furono le pressioni esercitate dalla curva nei confronti della società durante la stagione 18-19. Intemperanze, scioperi del tifo, cori rassisti sarebbero stati orchestrati dagli ultras che non volevano perdere benefici e privilegi. Con la sentenza è stata riconosciuta l'associazione per delinquere. Alcune vicende sono state ricondotte al reato di estorsione consumata. L'indagine della Digos, chiamata in codice Last Banner, prese le mosse dopo una denuncia presentata dalla stessa Juventus. Insomma, la Juventus si rende conto che una parte del tifo organizzato va a ricattarla. O ci date i biglietti gratis, oppure noi facciamo questo e facciamo prendere la multa, o ci fate questo o noi facciamo quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi la Juventus si muove e presenta denuncia. Vengono fatti dei processi e da questi processi escono appunto degli esiti. Gli esiti sono quelli che abbiamo appena letto e la curva non ci sta. C'è da fare un passo indietro. Fino all'anno scorso, fino all'inizio di quest'anno, perché le prime partite casalinghe quest'anno la Juventus le ha fatte senza la curva, senza il tifo organizzato, lo Stadium era oggettivamente, oggettivamente uno stadio triste. Dico Stadium perché tanti mi dicono non si dice Stadium, ma io ho mente Stadium. L'Allianz era uno stadio triste, perché effettivamente mancava quel calore che danno le curve. E per me la curva è uno strumento importantissimo, cioè quando manca quel calore lì diventa difficile fare quella sorta di passo in più anche, se sei un giocatore viene a mancare quell'atmosfera tipica dello stadio. Siamo stati tutti allo stadio almeno una volta nella vita, sapete tutti di quello di cui sto parlando. Uno stadio senza curva, banalità, è come un cielo senza stelle. Per me la curva è fondamentale. Quando si mischiano queste cose qui però si fa un passo oltre il calcio, ragazzi, si fa un passo in avanti. Io difficilmente posso mettere becco, bocca in qualcosa di questo tipo qui. A me dispiace, dico solo che dispiace, perché abbiamo uno stadio meraviglioso, che è uno dei più belli all'avanguardia in Italia e siamo noi tifosi, siamo noi tifosi che dovremmo renderlo bello. Ci sono tantissimi ragazzi con la passione per il tifo, che vivono per andare a vivere quei 90 minuti lì ogni settimana. In trasferta ci saranno, andranno comunque, il problema è in casa. In casa ci sono delle limitazioni, non si possano portare determinati striscioni, non fanno entrare determinate cose, le coreografie non si possano fare, sono tutti rimasugli, possiamo dire così, di quello che è stato questo processo, last banner, che negli ultimi anni ha un po' sconvolto il tifo bianconero. Questo è un problema grosso, è un problema enorme per la Juve, è un problema che sembrava essersi risolto con il ritorno della tifoseria allo stadio. Ora, questo nuovo processo, questa conclusione del processo e queste condanne più elevate hanno probabilmente riaperto una ferita che ai tifosi organizzati non sta bene, semplicemente. A me dispiacerebbe vedere uno stadio vuoto e triste. Quindi il mio invito, perché qui ovviamente si parla di persone che hanno un grado elevato nell'organizzazione dei Vikings, eccetera, eccetera, dei gruppi organizzati, io chiedo a chi invece è sempre andato in curva a sostendere la Juve con gli abbonamenti, perché è la passione, perché è la vita, di continuare a farlo. Di continuare a farlo al di là del fatto che i capi della curva abbiano detto no, non lo facciamo più, voi fatelo. Cioè, è la vostra passione, nessuno ha il diritto di dirvi questa roba non la dovete fare. E ve lo dice uno che non è un tifoso da curva. Io tutte le volte che ho fatto l'abbonamento all'Allianz Stadium, ho fatto due anni di abbonamento, per distanza, poi ho visto tantissime partite della Juventus a spot, non sono mai uscito prima, perché per me uscire prima per il traffico è una mancanza di rispetto incredibile nei confronti della squadra, anche se sta perdendo 3-0, non esiste uscire prima. E sono d'accordo con questo punto, io non sono un tifoso da curva. Ci ho provato, ho fatto le mie partite in curva, sono belle, perché sono delle esperienze, però io vado allo stadio per vedere la partita. A me interessa principalmente vedere la partita. E i due anni che ho fatto di abbonamento, secondo e terzo di conto, li ho fatti in tribuna. Qualcuno potrà dirmi che sono un cliente, che sono un pinguino? Probabilmente sì, probabilmente è vero, ma la mia passione per la Juventus è questa, la mia passione per il calcio è questa e va rispettata. Come io rispetto la curva e non solo rispetto, amo l'atmosfera che crea. Quindi il mio invito a chi è innamorato di questa cosa qui, quei 90 minuti non toglieteveli, non fateveli togliere da qualcuno che dice no, noi ora non lo facciamo più. Io ho un brutto aneddoto anche legato alla curva. Juventus, Shakhtar Donetsk, il primo anno con lo scudetto sul petto dopo Calciopoli, in Champions League, quindi con Conte, secondo anno. Uno a uno andiamo in vantaggio col gol di Bonucci, ero in curva sud, esulto, mi dicono di stare zitto di sedermi per il mio bene e che non si esultava ai gol della Juventus perché la curva era in sciopero. Inno della Juventus, mi alzo con la sciarpa, zitto, muto, a sedere. La curva è in sciopero. Io queste cose non riesco a digerirle per come sono fatto io. A me queste cose non piacciono perché la curva è in sciopero qualcuno lo deciderà e quindi è quella persona che andrà in sciopero. Non ha il diritto di far scioperare anche me che magari non condivido quello che è stato detto o semplicemente amo fare una cosa e la voglio fare comunque. È questo che mi dà fastidio, questo abuso di potere, di un potere generato da chi non si sa. Quindi è una situazione delicata, difficile. Io comprendo le motivazioni della curva di fare un comunicato di questo tipo. Dall'altra parte, ragazzi, non stiamo parlando di scherzi, stiamo parlando di associazione delinquere, di condanne, di Juventus stessa che denuncia i tifosi, di processi. Sono cose delicate e che sono state affrontate nelle sedi competenti. Probabilmente alcune di queste persone hanno ancora interesse nell'ottenere dalla società determinati privilegi e quindi fanno questo tipo di comunicato. Io non avevo parlato fino adesso di tutto quello che la curva stava portando avanti nelle ultime ore. Qualcuno mi ha anche detto, eh, perché non è nel tuo interesse, se no ti vai a inimicare. Penso di aver condiviso le mie esperienze, le mie posizioni su quello che è il tifo da stadio, l'organizzazione, perché io amo terribilmente la curva, detesto tutto quello che c'è dietro ai piani alti della curva. Non ho problemi a dirlo, non ci sono ah, no, perché non lo dici, perché se no non ho problemi a dirlo. E l'ho detto. Se negli ultimi tempi lo striscione su Allegri non era diventato l'argomento di dibattito principale del canale e non me ne ero mai interessato, è perché sostanzialmente che i tifosi che hanno sempre, i tifosi della curva, hanno sempre sostenuto Allegri, non faceva notizia. Chi se ne frega se anche nel momento in cui io voglio cambiare Allegri, loro sono comunque contenti di Allegri. me l'avete chiesto in live, vi ho risposto allo stesso modo, me l'avete chiesto nei commenti, su tweet, vi ho risposto allo stesso modo, se vogliono fare lo striscione che lo facciano lo condivido no. E dopo questo comunicato dei Vikings è arrivato un altro comunicato, sempre su Instagram, che oggi voglio invece commentare. Roma, finale Coppa Italia e a Bologna ci saremo per vincere e per dire che Motte Conte non li vogliamo. Max portaci la Coppa Italia. Ecco, questo invece va commentato. Conte e Motta non li volete? Chi se ne frega? Volete Allegri? Chi se ne frega? Come dissi per il caso Lopeteghi Milan, i tifosi facciano i tifosi. Avete diritto a dire guarda preferirei questo piuttosto che quell'altro? Ma è la società che decide. Ci sono delle persone che fanno questo di mestiere, sono competenti e decidono. Fanno i conti, ci sono i bilanci, ci sono delle richieste aziendali, ci sono delle esigenze sportive, c'è Cristiano Giuntoli, c'è Scanavino, c'è Calvo, ci sono tutti questi qui che fanno questo di mestiere. Perché poi allora viene facile con un comunicato in cui si voleva cercare di ridurre a zero quello che è successo in last banner. No, viene facile poi dire allora le pressioni il tifo alla Juventus le sta facendo. Non facciamo più questo se non in cambio quell'altro, non facciamo più questo se non ci ascoltate, se non ci accontentate. Questi due comunicati vanno esattamente a confermare quello che abbiamo letto su Ansa, no? Al di là dei giornalisti leveline che io qua farei anche nome e cognomi. Io farei nome e cognomi. Chi sono stati i giornalisti che hanno fatto questa roba, che non hanno fatto il loro lavoro, che non si sono comportati bene? Cioè quando si fanno queste robe qui vanno fatti nomi e cognomi? Chi sono i calciatori che vanno lontano da Torino? Chi sono i calciatori che non sono professionali? Vanno fatti nomi e cognomi. Non Max portaci la coppa, gli altri allenatori non vogliamo, ci sei solo te. I tifosi, facciano i tifosi, possono avere delle preferenze? Sì. Allo stadio possono dire Max è meraviglioso, io vorrei vederti ancora anche al mondiale. Indubbiamente. Io non sono nessuno per dire no, il tifoso allo stadio deve dire quello che penso io, che voglio io. Non esiste. Non esiste. Uno paga il biglietto, uno va allo stadio, uno vive la passione. La passione dentro allo stadio ognuno la vive come vuole lui. E a seconda di come la vive, sceglie dove andarsi a vedere la partita. E non è che se vado in curva io devo dire che voglio Allegri e non voglio Tiago Motta, perché sennò in curva non ci entro. Io pago il biglietto, entro in curva e ho le mie idee lo stesso. Non esiste questa roba. Non esiste. Perché la curva non è del signor Pinco Pallo, Panko Pinco. La curva è la curva della Juventus. Per i tifosi della Juventus che vogliano fare un determinato tipo di esperienza in quei 90 minuti. Quindi i tifosi facciano i tifosi. Perché questo viene logico vederlo come un pretesto per andare contro la società. alla società che allora noi vogliono mandarlo via. Allora noi ci schieriamo dalla parte di Allegri. Anche perché qui contro la dirigenza, contro i giocatori, ma Max portaci la coppa noi gli altri non li vogliamo. Allora ragazzi forse qui si sta delineando uno scenario non proprio meraviglioso, eh? In cui si fanno proprio i dispetti. Ah, la società non ci vuole, la società non ci accontenta, la società qui, la società lì. E allora noi ne incontrò la società così. Cioè, queste robe non esistono. Per me. Mio modo di vedere. Mio modo di vedere. Io credo che sia importantissimo il tifo nello stadio e mi dispiace che poi ci siano queste queste robe qui. Momento ipocrisia. Perché qui stiamo parlando di persone che oggettivamente cercano di trarre guadagno dalla Juventus. Io stesso, del mio amore per la Juve, della mia passione per il calcio, trago guadagno. Ne ho creato un lavoro. Quello che sto facendo è parlarvi monetizzando le mie impressioni. Lo sappiamo tutti, non è un mistero, non c'è bisogno di nasconderlo, non ce n'è necessità e non c'è nemmeno bisogno di essere ipocriti. Però io non sono qui a ricattare la Juventus o a dire se non fanno come dico io allora faccio. Anche perché io sono consapevole delle responsabilità, in prima battuta, che ho nei confronti delle persone che ci sono di là. Io non posso imporre un pensiero e non ho interesse nel farlo. A me piace discutere, a me piace condividere, a me piace il dibattito. Ci sono persone che non la pensano come me, ci sono persone che mi scrivono nei commenti guarda io proprio tutto quello che dici non mi piace eppure sono qui perché mi piace ascoltare quello, vedere la visione, quello. A me piace quello. A me piace anche quando uno mi dice guarda ok ma questa cosa qui perché l'hai detta e tante volte lo sapete chi segue i video. Nel video dopo vi dico ho letto che e allora ve lo spiego nuovamente perché probabilmente mi sono espresso male. L'anno scorso è da ottobre del 2022 che per me Allegri va esonerato. Non l'hanno esonerato nella pausa nazionale, non l'hanno esonerato a gennaio, non l'hanno esonerato a fine anno. Non è che mi sono messo qui a dire allora ricattolo a Juventus o vi dico non andate più allo stadio, non comprate più la maglia, non pagate più gli abbonamenti. Ma no, ma non esiste. Ma chi è Luca Toselli per dirvi una roba del genere? Ma chi sono? Che tipo di potere devo essermi dato da solo per ragionare e pensare una roba del genere? Non esiste. È una roba che non fa parte di me e meno male perché l'influenza che ho e ne sono consapevole e non lo dico per tirarmelo per vantarmi ma perché ne sono consapevole è un'influenza che può anche diventare pericolosa se utilizzate in una determinata maniera. Quindi io non sono qui a dirvi fate così perché io voglio così e fate così perché io voglio colà. Quest'estate mi hanno chiesto perché non hai protestato? Perché Allegri è rimasto? La risposta è questa roba qui ragazzi. La risposta è questa roba qui. Ma non esiste che la curva dica io quegli allenatori non li voglio, voglio solo questo qui e allora se ne è non vado più a tipare. È una roba che a me fa arrabbiare. E allora dall'alto della rabbia che provo nei confronti di questa roba qui, figuratevi se potevo farlo io ma al contrario e dirvi non andate più allo stadio, ma andate allo stadio, andateci sempre, che la Juve vinca, che la Juve perda, andateci allo stadio, è bello. L'anno scorso quando c'è stato tutto quel casino extracampo io ho sentito la necessità di andare allo stadio e vedere l'Europa League. Io ho quattro ore e mezza di viaggio ad andare, quattro ore e mezza di viaggio a tornare per raggiungere l'Allianz. Abito prima di Ferrara, in Emilia Romagna, ma quando sento la necessità, prendo la macchina, il treno, quello che è e vado, e vado e mi vivo quei 90 minuti lì per come sono abituato e come amo viverli io, che non è il modo giusto, è il modo mio che mi fa sentire bene quello che serve a me. Sono tutte robe soggettive. Il fatto che una pagina che si cieli dietro un simbolo, che è il simbolo dei Vikings, che è il simbolo di quello che volete voi, parli a nome di tutta la curva, per me è qualcosa di raccapricciante, di raccapricciante. Non ci sta. E ribadisco, io amo, amo, la curva, amo. Vedere che cantano, amo. Vedere i colori, gli striscioni e tutte le coreografie, tutto. Amo. Questa roba qui invece mi fa venire il volta stomaco. Sono due cose completamente differenti. Tante cose, tantissime cose che col calcio hanno a che vedere sì, ma di riflesso. Questi sono tutti interessi politici e robe di riflesso. Sono argomenti difficili, scottanti, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. E scusate se mi sono un po' alterato, però ci sono delle cose che mi fanno arrabbiare. In un momento in cui alla Juventus si sta cercando di lavorare per venire fuori al meglio da questa situazione, avrebbe presa in un altro modo. E l'invito che faccio, che non è un obbligo, è un invito, se voi volete comunque andare allo stadio in curva perché siete innamorati di quei 90 minuti, andateci anche se vi hanno detto di stare a casa. Nessuno ha il diritto di dirvi che cosa fare. Fate quello che volete fare, fate quello che amate fare. Forza Juventus! Stavo editando il video e mi sono reso conto che sul finale dovevo aggiungere una piccola parte perché sennò nei commenti so che avrei trovato una determinata corrente di pensiero. No, non ho benefit dalla Juventus perché questa è una cosa che si legge spesso e volentieri. I content creator hanno benefit dalla Juventus. Io posso parlare per me, ognuno può parlare per sé. Luca Toselli non è mai stato invitato dalla Juventus. Mai, non ho mai avuto un biglietto da parte di Juventus. Tutte le volte che sono stato invitato allo stadio sono stato invitato da sponsor, non da Juventus, da sponsor, che sono due cose completamente differenti. Quindi no, non ho benefit da Juve, non ho biglietti, non ho maglie, non ho viaggi, non ho trasferti, non ho niente da parte di Juventus, non ho niente. Anzi, l'ultima volta che sono andato allo stadio in occasione di Genoa Juventus a 0 a 0, ho fatto anche una clip dove, in realtà non è che ho fatto una clip, stavo registrando la live reaction e dentro la live reaction è venuta fuori quella clip che è diventata virale, in cui dico ad Allegri che il Bologna aveva vinto, non c'erano offese, non c'erano insulti, non c'era niente, c'era solo un tifoso deluso dalla prestazione della sua squadra e che ricordava all'allenatore, dopo delle parole della settimana precedente, abbiamo guadagnato il punto sul Bologna, che il Bologna aveva vinto e che quindi non stavamo più guadagnando quel punto. Non c'era nessun tipo di insulto. Ecco, vi dico che quella clip mi è costata anche abbastanza chiaro, sono stato anche richiamato, da chi, da come, per come, fa lo stesso, passa in secondo piano, ma sappiate che Luca Toselli da Juventus non ha mai ricevuto nessun tipo di benefit, ci credete, non ci credete, non mi interessa, ve lo dovevo dire perché so che nei commenti sennò questa roba sarebbe venuta fuori. Ciao!